Allagamenti e criticità a rie e torrenti a Sesti Levante a causa delle copiose piogge che hanno colpito la cittadina durante la notte. In particolare i temporali si sono concentrati nelle prime ore del mattino, tra le 4.30 e le 6, causando allegamenti in città e la chiusura dei sottopassi di Via Nazionale, Via Gramsci, Via Pontino e Lapide. Al momento sono state riaperte la circolazione solo quelli di Via Nazionale e Lapide. Le precipitazioni hanno causato anche l'esondazione del rio Battana che si trova a Santa Margherita di Fossa Lupara e il torrente Petronio ha raggiunto livelli di guardia in prossimità della foce. Il rio Battana nella zona di Santa Margherita di Fossa Lupara in primo luogo che è esondato ma poi anche un livello del Petronio veramente preoccupante che solo grazie al fatto che questa notte il livello del mare è rimasto abbastanza stabile non ha provocato esondazione. Altri danni causati dalle precipitazioni nella strada per le gallerie di Moneglia in Via Ponzerone dove una piccola frane si è staccata dal versante a monte. Al momento la circolazione stradale prosegue con un restringimento. L'attenzione maggiore adesso si sposta sul versante marino e sulle forti mareggiate previste nel pomeriggio. Hanno messo un livello del mare Forza 8 intorno alle 5 di questo pomeriggio. Se ci sarà la concomitanza del livello del mare che si alza e le precipitazioni che ritornano la criticità sui torrenti diventa veramente emergenziale. Fortunatamente i temporali di questa notte non hanno causato gravi conseguenze alle persone. A pressione per due individui che sono stati sorprese dalla pioggia nel sottopasso di Via Nazionale e in Via Monsignor Vattuone rimanendo momentaneamente bloccati. L'invito è sempre quello di massima prudenza. Diciamo che quando siamo arrivati poi a chiudere tutti i sottopassi non c'era già più e insomma la situazione si è ristabilita. Il problema è stato che davvero in pochissimo tempo è arrivata tanta acqua. Consiglio infatti l'indicazione che ho dato è di non uscire se non è strettamente necessario. Non sappiamo ancora l'evoluzione del tempo e quindi è opportuno stare a casa se non ci sono ragioni di necessità per uscire.